Distanziamento tra i banchi e mascherine. Lo scorso 8 febbraio sono tornati a scuola con la modalità del 50% anche gli studenti del Fardella Ximenez di Trapani. L'istituto superiore, che conta 64 classi e circa 1.500 alunni dislocati in 5 sedi, ha fatto però una scelta didattica ben precisa. Abbiamo deciso di suddividere le classi e non far entrare le classi in due gruppi, cioè un gruppo a casa e un gruppo a scuola. Per ragioni strettamente didattiche, perché riteniamo che è giusto che il registro delle lezioni sia unico, perché c'è differenza tra la DDI e la lezione in presenza. E anche per ragioni tecnologiche, perché c'è un aggravio notevole sulla linea quando noi lavoriamo a distanza. Turni di quattro giorni, con due classi dove ci sono studenti con bisogni educativi speciali che rimangono sempre in presenza. Le altre 62 classi si alternano su due gruppi. Oggi è il primo giorno del secondo turno, quindi oggi sono presenti i ragazzi che sono stati presenti già il giorno 8 e così continueremo fino al giorno 25. Il giorno 25 vedremo un attimo come è l'andamento del Covid, come è l'andamento all'interno della scuola e decideremo di aumentare, pensiamo di aumentare il numero di ragazzi in presenza fino al 60-70% circa. Tanto per avere un'idea, su 1.500 alunni in questo momento abbiamo a casa, per ragioni di Covid, soltanto 8 alunni. Di questi 8 alunni 6 sono positivi e 2 sono in isolamento fiduciario da parte dell'Asp. Quindi i numeri sono abbastanza tranquillizzanti. C'è voglia di normalità di vivere la comunità pur comprendendo l'emergenza sanitaria in corso. Nella prima settimana ho fatto un giro per le classi, non tutte, per varie regioni, ma facendo un giro per le classi ho notato che c'è una forte volontà, un forte desiderio dei ragazzi di tornare in classe, di stare con i loro compagni, con i loro professori, di vivere nuovamente la scuola così come è giusto che sia la scuola. La scuola è comunità, è comunità di Ducanta. Tra aule vuote per la DAD e lezioni in presenza siamo stati nella quinta E con la professoressa Rosaria Bonventre che ha tracciato un bilancio di questo particolare momento. È stato veramente un periodo di grande, grande, grande difficoltà e grande impegno da parte di tutti. La scuola in questo secondo me ha dimostrato di essere grande, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare di natura tecnica. Io sono soddisfatta dei miei ragazzi. Dalle difficoltà dunque si traggono sempre degli insegnamenti e si cresce. È stato certamente più complicato perché ne risente il rapporto umano tra alunni e professori, però comunque c'è stata un'evoluzione, nel senso che nel momento di difficoltà i professori sono stati anche bravi nell'aiutarci a superare questi momenti. Si è evoluto anche la scuola in sé perché abbiamo dovuto far fronte ad una situazione diversa e quindi utilizzare nuovi strumenti di valutazione, nuove prove. È stato complicato perché comunque diventa alienante a un certo punto, però tutti insieme si può superarlo. Grazie a tutti.